e la forma del dodici basi pentagone attribuì al cielo siccome a quello che è il receptacolo di tutte le cose questo duodo cedron e il simile fia receptacolo e albergo di tutti gli altri quattro corpi regulari come appare e le loro iscrizioni uno e l'altro e per questo ancora l'antico platone insiemi con l'altre aducte lo attribuì all'universo grazie 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 grazie